Per questo vi saluto, auguro un buon fine anno a tutti, insomma un buon fine anno a tutti, domani non credo che il 31, non penso di riuscire a fare la live, il 31 è l'1, adesso non so se è l'1, forse sì, non lo so, vediamo, comunque manderò poi i segnali e poi riprendiamo, e poi riprendiamo. Bene, comunque anche chi poi non fosse a casa nelle live successive ovviamente se le può risentire, intanto queste restano. Quindi un saluto a tutti e a presto, ciao a tutti, ciao a tutti.